Anche le persone straniere che hanno, vanno in diversi ruoti, hanno la stessa di quello che diceva l'Istituto. Quindi speriamo che anche gli altri, per esempio l'Alda si è messo a fare quei massi ciclofici, perché ovviamente hanno dei vantaggi, meno manutenzione, non ho anche dei cartelli, insomma i massi ciclofici, insomma hanno messo ancora la mia gente. Ci sono fatta sull'Alda, non possiamo parlare. E poi le tempistiche ripetono, sono sempre soggettive, il chilometraggio. Io ho notato un'altra cosa, però, fuori da ogni contè, cioè sono passato anche prima o meno sulla cosa. Cioè stanno impiantando un livello. Stanno impiantando un livello, credibile. Salici bianchi. Questa che viene anche detta vite americana. Ah no, è un'altra roba ancora. Ah, zucchina americana. La vita del caldo la vediamo dopo, partendo whenever. Ah, fish, quindi ce ne sono varie tipologie. Sì, c'è stato l'altro. La chiamano giucchetta.